Sono contento perché innanzitutto devo ringraziare lo staff medico, massaggiatore, dottore, perché davvero hanno fatto un lavoro incredibile. Pensavamo di entrare molto più avanti sinceramente, perché comunque c'è stata una frattura e una distorsione importante e quindi i tempi di recupero anche detti dall'ospedale erano molto più lunghi. Invece abbiamo cominciato la fisioterapia poco per volta, hanno fatto davvero un lavoro incredibile, per questo vi ringrazio ancora. Oggi è andata bene, sinceramente non pensavo neanche di avere 90 minuti nelle gambe, però ho tenuto bene, quindi da questo punto di vista sono contento. Purtroppo penso che anche voi abbiate visto la partita, è mancato solo il gol oggi penso, perché da rimproverarci il fatto che dobbiamo fare il gol, perché secondo me c'è stata una prestazione importante da parte di tutti, penso che Scapolo forse abbia fatto una parata, non penso neanche una. Nel loro portiere oggi devo fargli complimenti perché davvero in due o tre occasioni è stato veramente bravo, sta di fatto che noi dobbiamo migliorare ancora sotto porta, perché in questa partita qua girano le scatole, scusate il termine, uscire con un punto solo, perché secondo me sono due punti persi, però ci rimbocchia le maniche e mercoledì c'è un'altra partita importantissima. Con il busto 81 oggi il Varese mi aiutava forse di più, anzi, come gioco in alcuni momenti, pur non essendo il Varese di Legnano, che c'era fino a un mese fa, ha raccorto poco. Eh sì, hai detto benissimo, ci siamo accorti anche noi che c'è stato, non un calo, però un momento un po' di sbandamento, che penso che ci stia nel corso di un anno. Ci siamo ripresi subito e anche con il busto 81 è stata, secondo me la squadra ha giocato davvero bene, il problema è che è un momento così e dobbiamo cercare di uscire tutti insieme, perché le parole sì, se ne possono fare tante, ma poi alla fine quello che conta è il campo e anche oggi siamo con un punto, con tanto rammarico, però anche secondo me ha con la consapevolezza che comunque siamo una squadra e possiamo ancora dire la nostra, sicuramente. Quello però accetta questa condizione, questa situazione che ha sostenuto fino alla fine? Ma infatti dal campo sentirli incitarci fino alla fine, quello ci riempie di orgoglio. È normale anche che una parte non sia contenta, perché comunque, Varese parliamoci chiaro, vederlo lì sì, fa male a me come a tutti i miei compagni, però piangerci addosso non serve a niente, bisogna tirare sulle maniche e ripartire da oggi, se diamo il 100 e non basta daremo il 200%, di sicuro non mogliamo un centimetro, quello è poco ma sicuro. Esatto, poi c'è la Coppa Italia, ci sono ancora due o tre fronti aperti, di sicuro non mogliamo un centimetro. Su questo posso garantire per tutti.